Riflessione sulla spiritualità di San Pio. Questa sera l'Associazione I Miracoli dell'amicizia torna con un appuntamento dedicato a Pio da Pietrelcina. La comunità si raccoglierà all'interno della chiesa dell'Istituto Sacro Cuore alle ore 20 e potrà ascoltare la testimonianza dell'arciprete Don Franco di Lido, delegato episcopale dei gruppi di preghiera di San Pio, della diocesi della provincia Barletta Andrea Trani. Tra pochi giorni ricorre l'anniversario della morte di San Pio, come ogni anno allora l'Associazione Bitontina ha pensato di venerare il santo in città con delle iniziative. Fiora Locchiello è stata ed è la riproduzione della chiesetta antica di San Giovanni Rotondo e del confessionale dove padre Pio passava le ore per portare le anime a Dio. È stata inaugurata lo scorso martedì presso la sede dell'Associazione nel centro storico di Bitonto, in via San Giorgio. Quest'anno abbiamo voluto un po' dare un tocco diverso, abbiamo puntato soprattutto sul sacramento della confessione, abbiamo voluto realizzare la chiesetta antica, proprio l'originale di San Giovanni Rotondo e soprattutto il confessionale. Abbiamo voluto sottolineare questo aspetto perché abbiamo avuto anche il dono di avere una reliquia di San Pio, una reliquia molto particolare, è un pezzetto del guanto che padre Pio utilizzava la notte, perché padre Pio la sera toglieva il suo guanto marrone, lo collocava sul suo comodino, gli mettevano un guanto beige, quindi è una chicchia particolare perché non tutti ce l'hanno. Grazie a don Francesco di Lido, che è il delegato diocesano dei gruppi di preghiera della diocesi di Barletta Traniandria, siamo riusciti ad avere questa reliquia. Tanti fedeli hanno potuto vivere quello che è il vero senso della confessione e hanno potuto ammirare la reliquia del santo che arriva da Biceglie ed è stata recapitata a don Franco di Lido da don Paolo Covino, che è il frate che è stato con padre Pio fino alla sua morte. Una carezza al cuore di chi ha fede è stata data anche da una riproduzione manifatturiera del santo. Affetto, devozione, nel silenzio della semplicità. E questo il modo di stare accanto a chi ha bisogno di cura, vicinanza o semplicemente di un posto in cui avere pace e trovare raccoglimento. Ne ha parlato con tanta emozione il presidente dell'Associazione Franco Naglieri e proprio a loro ha voluto dedicare la sua preghiera a San Pio. Che San Pio possa entrare nel cuore di ciascuno per rendere il nostro cuore libero da ogni pregiudizio, da ogni cattiveria, da ogni malintenzione. Ecco, San Pio ti prego, fa che il nostro cuore possa tornare veramente semplice come i bambini. La chiesetta, visitabile nei prossimi dieci giorni, è stata benedetta da don Pierpaolo Fortunato. Il Paroco di Sant'Egidio ha lanciato martedì un importante messaggio. Questa casa è per la comunità, ci invita ad essere soprattutto chiamanti della fede. Chiamanti lo siamo tutti quanti, tutti dobbiamo essere testimoni delle nostre azioni nella nostra comunità. Se tutti noi iniziassimo a ripensare a questo modo di essere cittadini nella nostra comunità, cittadini attivi, io credo che la comunità ne beneficerebbe tutta quanta. E quindi uscire fuori dalle paure, uscire fuori dallo sconforto, tirare fuori quel coraggio, vivere la speranza dei giorni, seppur difficili, che possono essere dei tempi migliori che possono arrivare. Questo deve essere il simbolo di un quartiere, deve contribuire a renderci tutti più cittadini della nostra comunità, a sentire la nostra appartenenza, a sentirci uniti. E' uno dei motivi anche di un'azione che può caratterizzare l'azione amministrativa, affinché tutte quelle azioni che noi mettiamo in atto possano poi effettivamente servire a quel bene comune.